Buongiorno a tutti, Aerolite chiamo a pianeta Terra, qui con voi il dottor Gabriel Stefanelli. Al mio fianco, dopo aver affrontato una tremenda amareggiata nella sua jacuzzi dorata, il dottor Tommaso Pradesi. Ciao ragazzi! Oggi nello specifico andremo a parlare del CARL su Panca Scott, ovvero uno degli esercizi per i bicipiti più gettonati in assoluto. Per qualcuno un movimento piuttosto pericoloso e che mette a rischio infortuni, per altri invece il sacro gral dell'ipertrofia del bicipite. Vedremo chi ha ragione nel video. Quali sono i punti fondamentali di questo esercizio? Prima di tutto verificare se la nostra mobilità ci consente di farlo con un bilanciere ed eventualmente, se no, lavorare monolaterale con un manubrio. La stabilità e la tensione continua per tutto l'esercizio. Allora, eccoci qua a parlare di un esercizio molto celebre, soprattutto per quello che riguarda l'allenamento dei bicipiti. La Panca Scott. Ora, io credo che chiunque abbia un idea di questo esercizio o l'abbia visto svolgere in palestra. Spesso viene ritenuto un movimento molto pericoloso dal punto di vista della salute muscolotendinea dei nostri bicipiti. Questo però lo vedremo poi durante il video, soprattutto a causa di esecuzioni un po' errate. Allora, il primo ragionamento che noi dobbiamo fare su questo tipo di esercizio... Piazzatevi un attimo senza prendere il bilanciere, Tommy. Ora, magari dal video non si vede bene, ma riguarda quella che è la curva di forza del bicipite. Allora, noi nel bicipite abbiamo una situazione... Io sto in piedi, dove vado a simulare praticamente quello che succede in un normale carle con manubri o con bilanciere. Abbiamo una situazione dove dal punto di vista del nostro bicipite siamo deboli in questa posizione, perché il bicipite è allungato e soprattutto la leva dal punto di vista del tendine sulla tuberosità radiale è praticamente parallela rispetto all'osso, per cui qui non riesco a sviluppare forza. Qui quello che si va a creare sia dal punto di vista della capacità muscolare del muscolo, che si trova nella parte mediana del suo profilo di forza, ma anche per quella che è la leva del tendine sull'osso, aumenta sia la distanza dall'articolazione e soprattutto aumenta la perpendicolarità del tendine rispetto all'osso, c'è una posizione di forza, non a caso questa è la posizione dove noi riusciamo a fare forza con il bicipite, per poi ritornare ad essere tendenzialmente un po' più deboli nella posizione di contrazione. Ora, quello che succede quando noi utilizziamo un manubrio o un bilanciere è che in basso abbiamo zero resistenza, il che ci può anche stare, perché noi comunque qui siamo deboli, abbiamo tutta la resistenza qui quando noi siamo forti e poi abbiamo uno scarico di resistenza quasi completo quando siamo in questa posizione, dove siamo un pochino più deboli, perché ovviamente vedete il carico praticamente finisce per essere praticamente allineato all'articolazione del gomito. Per cui c'è un accoppiamento fra profilo della forza muscolare e profilo della resistenza che non è sbagliatissimo, ma potrebbe anche essere migliore. E in questo senso la Van Cascot ne è un esempio molto buono. Mettiti seduto, Tommy ce la fai a stare seduto in questa posizione. Perché se noi andiamo a vedere, ora qui si tratta di un, in questo modello probabilmente lo, diciamo l'imbottitura è persino troppo, è persino troppo, è persino troppo verticale. Un'inclinazione ideale di solito è sui 60-70 gradi. Ma quello che noi andiamo a notare, rispetto anche a quello che ho detto poco fa, è che in questa posizione, come vedete, la proiezione del carico, immaginate che lui abbia un bilanciero e un manubrio nelle mani, è qui, ed è già distante da quella dell'articolazione. Per cui noi in basso abbiamo un po' di carico. Non abbiamo zero carico, come ad esempio con un manubrio o con un bilanciero quando stiamo in piedi. Per cui anche in basso, come ho detto, è vero che il bicipite è debole, però questa non è una buona scusa per avere zero tensione in basso. Per cui io in basso ho un po' di tensione. Ora, mano a mano che noi andiamo a fare questo, guardate quello che succede, no? Qui in basso c'è una certa distanza. Quando noi andiamo a salire, la distanza fra il carico e l'articolazione aumenta, ma questo è il punto dove il bicipite è forte. Quando noi arriviamo su, ci troviamo in una condizione dove la distanza fra il carico e l'articolazione diminuisce, ma il bicipite diventa più debole. Però noi, se vogliamo, qui riusciamo comunque a mantenere una certa distanza e non andare in scarico completo. Per cui il vantaggio che noi abbiamo dall'utilizzo di una panca Scott, che può essere appunto un supporto come questo, ma possiamo utilizzare anche una normale panca per poter appoggiare il braccio, è anzitutto dato dal fatto che riusciamo ad avere un profilo da resistenza leggermente più efficiente dal punto di vista della tensione meccanica che andiamo a generare su un muscolo. Ricordiamoci sempre che la tensione meccanica è la tensione delle fibre, non ha un granché a che vedere con quello che è il carico esterno. Dobbiamo cercare di sviluppare massima tensione durante tutto il ROM per reclutare il massimo numero di unità motori e di conseguenza generare tensione sul massimo numero delle fibre all'interno del muscolo, non sul muscolo inteso come sistema dall'esterno. Per cui c'è questo fattore. L'altra cosa interessante della panca Scott è appunto la stabilità. Noi vi abbiamo ripetuto fino alla noia quanto sia importante la stabilità per l'ipetropia, perché mentre in un carle bilanciere o in un carle manubri io posso fare un sacco di movimento, un sacco di cheating, qui non posso farlo, perché qui se mi piazzo bene, piazzati un attimo Tommy, senza bilanciere, se io mi piazzo con il peso del corpo che sta ben schiacciato sullo schienale, spingo il tricipite contro il supporto, io non posso fare altro che un movimento che sia una flessione a livello del gomito. Per cui non ci deve essere movimento a livello della spalla, non ci devono essere strattoni a livello del corpo e questo è un altro vantaggio, è il vantaggio della stabilità. Ora, noi qui siamo nella classica stazione dove solitamente si usa il bilanciere per fare questo movimento. Purtroppo in questo senso, se qualcuno ha già visto l'altro video che abbiamo fatto sui bicipiti, dobbiamo premettere che il bilanciere non è per tutti e vi faccio capire immediatamente perché. Perché Tommaso è una di quelle persone che avendo poca mobilità in supinazione, purtroppo in questa posizione, come vedete, lui si ritrova. Ricordatevi che dobbiamo trovarci con le braccia perpendicolari al pavimento, non con le braccia in questa posizione, non con le braccia in questo. Se ci troviamo con le braccia molto larghe, andiamo a creare una tensione sui gomiti veramente, veramente eccessiva, cioè il rischio di infiammazione è veramente dietro l'angolo. Per cui lui, se si trova in questa posizione, guardate come stanno le sue braccia. Sono praticamente in questa posizione. Capite che per lui afferrare un bilanciere, anche un bilanciere Z, diviene quasi impossibile. Non riesce. Prova Tommi, guarda cosa succede se afferri il bilanciere. Vedete, lui è costretto praticamente, vedete, a portare i gomiti verso l'esterno. Esattamente quello che succederebbe con un bilanciere, ma non è assolutamente quello che vogliamo. Vedete in che posizione lui si va a trovare. Con un bilanciere dritto non sarebbe proprio possibile. Le Z un po' lo favorisce in questa cosa, ma andiamo comunque a creare uno stress che non va sul muscolo target e noi vogliamo andare ad allenare. Per cui anche qui, come detto nel video sul carle bilanciere, se avete, io ne sono un esempio, un buon grado di supinazione che vi permette di lavorare con il bilanciere, lavorate pure con il bilanciere. Tutte le indicazioni che daremo in seguito nel video si applicano benissimo in un bilanciere. Solitamente il bilanciere EZ è un pochino più naturale, in questo senso. Diminuite il tempo di allenamento, per cui va benissimo. Altrimenti, se siete come il nostro buon Tommaso che per riprendersi dalla tristezza di questa cosa si è posizionato le braccia per farle sembrare più grosse, e se le guarda anche con piaciuto, lavorate con un braccio alla volta. Ora nel video, infatti, faremo riferimento a un'esecuzione del carl su panca scott con il manubrio, le stesse cues si applicano anche all'esecuzione con bilanciere, ma perché parliamo di un'esecuzione di manubrio? Per il semplice fatto che il 70-80% di utenti in palestra si trovano nella condizione di Tommi, per cui il manubrio diventa decisamente più funzionale e più gestibile dal punto di vista proprio anche dell'articolarità del soggetto. Come detto, l'esecuzione con manubrio è molto più fisiologica, ci permette di stare tranquillamente con il braccio perpendicolare al pavimento, e allora possiamo già andare ad osservare delle cose. Il modo in cui si è piazzato Tommaso. Tommaso si è piazzato con il ginocchio poggiato sulla seduta in maniera tale da avere tutto il peso del corpo schiacciato qui. Questo perché? Perché vogliamo andare a ridurre al massimo tutti i movimenti non necessari. Ora, da questa posizione, lui si piazza, spinge forte con il gomito contro il supporto, in modo tale che non ci siano movimenti di alcun tipo a livello della spalla o del braccio da qui. L'idea ora deve essere quella di andare a schiacciare l'avambraccio contro il bicipite. Stop! Non quella di sollevare il manubrio, perché se lui, guardate cosa succede, se lui pensa a sollevare il manubrio, vai su Tommaso, succede questo. Succede questo, che tutto il corpo si solleva assieme. Per cui l'idea, voi pensate che il manubrio diventi una prolunga della vostra mano, e l'idea deve essere quella di schiacciare con l'avambraccio il bicipite. Anche qui, cosa molto importante, e fattore che poi porta le persone ad infortunarsi nella pancascotta, l'avevamo detto all'inizio, nella posizione iniziale, piassati leggermente più indietro, Tommy, nella posizione iniziale, come detto, il bicipite ha una leva molto svantaggiosa a livello tendineo sull'avambraccio, per cui è molto importante non arrivare nella posizione di completa estensione, perché potrebbe essere rischioso, e soprattutto partire lentamente, partire lentamente e poi accelerare dopo. Questo per evitare che vi sia uno stress sulla struttura tendinea eccessivo, per cui controllate il movimento, iniziate a spingere contro il supporto, partite piano e pensate a schiacciare con forza l'avambraccio contro il bicipite. Come vedete, non si muove altro che l'articolazione del gomito. Il resto del corpo veramente è bloccato nella pietra, proprio. Lì, controlla, ok. Non è sbagliato, questo a seconda di quello che volete fare, partire, ad esempio, da una situazione di pronazione e poi passare in supinazione. Questo non è assolutamente errato, potete tranquillamente farlo, andate a creare uno stimolo leggermente diverso. Se fate questa cosa, vi do un piccolo tip a Ferralmanubrio, Tommy, se volete lavorare un pochino più sulla funzione supinatoria del bicipite, il consiglio che vi do è di lasciare un po' di spazio prendi il manubrio verso l'esterno, bravo, ora parti in questo modo, cominci a spingere, vai, vieni su, e ora vai, andate praticamente a ruotare, ad avvicinare il mignolo verso la spalla. Come vedete, in questo modo abbiamo messo più carico da questa parte del manubrio, per cui andiamo a sovraccaricare leggermente la supinazione. Riparti da qui, vai, e qui andiamo ad allenare molto la funzione di supinazione, molto bene. Qui ovviamente c'è un lavoro iniziale vista la posizione di pronazione anche del braco radiale, però è comunque un movimento interessante per l'allenamento del bicipite, l'importante è mantenere tutto quel complesso di canoni esecutivi che abbiamo visto in precedenza che ci portano ad avere una massima stabilizzazione. Ora, come detto, posa pure il manubrio, Tommy, se no ti viene un braccio più lungo dell'altro, poi mi sento in colpa, come detto, una cosa molto importante è l'inclinazione di questo supporto. Ora, anche qui faccio un appello, se le case produttrici di macchinari da palestra facessero dei supporti per la panca scotta regolabile, sarebbe veramente un'ottima idea. Questo perché? Perché normalmente la giusta inclinazione è intorno ai 60-70 gradi. Perché, vedete, cosa succede? Se noi ci trovassimo in una situazione opposta a quella di questo supporto che, come vedete, è abbastanza verticale, tant'è che il movimento ricorda molto quello di uno spider carl che poi vedremo in qualche altro video. Se noi ci trovassimo all'opposto con un supporto quasi parallelo per farvi capire cosa succederebbe al pavimento, noi ci troveremmo in una posizione in cui, dove, come detto, il bicipite è debole, avremmo praticamente tutto il carico perché avremmo la massima distanza tra la proiezione e il carico e l'articolazione e questo sarebbe abbastanza problematico perché poi ci troveremmo nella parte dove il bicipite è forte dove invece non avremo più carico. Per cui, anche qui, quando vi capita magari di giocare con i macchinari che permettono di fare questo esercizio, tenete presente sempre questo aspetto. Ora, in questo caso l'inclinazione è abbastanza marcata, qui abbiamo un'inclinazione di circa quasi 80 gradi e viene recuperata un pochino dalla curva del supporto che permette comunque di lavorarci, però state molto attenti a questo fattore. Se vi trovate, ad esempio, con un supporto con un'inclinazione intorno ai 45 gradi, il consiglio che posso darvi è magari mettere qualcosa sotto ed inclinarlo per portarlo a 60-70 per non trovarvi all'interno del problema di cui vi ho parlato un attimo fatto. Per cui, riallacciandoci un attimo al discorso iniziale, non è che la panca scott sia pericolosa di per sé, anzi, è un ottimo esercizio per lo sviluppo del bicipite, se adattato all'articolarità del soggetto e fatto in un determinato modo. Come sempre, è questo quello che fa la differenza, è il come facciamo le cose che le rende pericolose o meno. Come sempre, spero che questo video possa esservi utile per gli allenamenti che andrete a svolgere da domani in là, spero vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento, vi siano piaciute le braccia possenti del buon Tommaso, in caso affermativo faccivi un bicipite, Tommy, bravissimo, è anche scrocchiato qualcosa, in caso affermativo mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao per la visione! Grazie a tutti.